È stato approvato dall'Aggiunta Micichè del Comune di Agrigento il progetto di fattibilità tecnica economica relativo ai lavori di demolizione e ricostruzione della scuola d'infanzia del presso Malaguzzi del villaggio Peruzzo e prevedendo un costo complessivo di 897 mila euro. La gara è stata esperita dal dirigente del settore dei lavori pubblici Alberto Avenia per l'aggiudicazione del servizio di progettazione fino al progetto esecutivo e risultato vincitore l'architetto Sortino che ha redatto e trasmesso all'Ufficio Tecnico del Comune di Agrigento un progetto di fattibilità tecnica economica dei lavori in oggetto. L'impegno preso dal sindaco Micichè e dall'assessore Arramo Principato di restituire alla città l'asilo chiuso da anni in stato di abbandono per problemi statici riscontrati sulla struttura. Un asilo, afferma l'assessore Gerlando Principato, che contribuirà non solo a ridare vita al quartiere del villaggio Peruzzo ma a migliorare il decoro delle pertinenze. Si porta avanti quindi un altro progetto importante nell'ambito degli interventi sull'edilizia scolastica previsti dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Micichè. Il nuovo edificio verrà costruito ex novo, si sviluppa su un unico livello, avrà una superficie complessiva di 390 metri quadrati e ospiterà 45 bambini. Gli ambienti sono interessati da un piano colore basato sui principi cromatici del benessere psicofisico. L'impianto planimedico del nuovo asilo è composto da tre blocchi. Nel blocco S sorgerà una reception e l'aula per gli assistenti scolastici, una segreteria, la cucina, una lavanderia, i servizi igienici per il personale e i locali tecnici. Dalla reception si dipartiranno due corridoi che collegano le sezioni. Nel blocco sud vi saranno tre parti dedicate a diversi e simili diversi, bambini dai 15 ai 36 mesi, una sezione lattanti. Nel blocco a nord, due sezioni primavera, dal punto di vista energetico, sarà un edificio a energia quasi zero.